Steph, dove accidenti siamo? Nel nostro laboratorio ovviamente Ma noi non abbiamo un laboratorio, e cos'è questo Steph? Scusa, girati, cos'è? È uno zombie molto particolare che ho rinchiuso per studiarlo Allora, come puoi vedere Ma tu non studi niente Steph Come puoi vedere cosa? Guarda, premi F5, guarda come sei vestita Noi siamo degli scienziati che studiamo tante cose Questo è il nostro laboratorio E tu dovrai lavorare insieme a me Per scoprire tantissime cose fantastiche Del mondo di Minecraft Sei pronta cara mia? E ragazzi, come va? Io sono Fere Niki E sono Steph, che stai giocare a Minecraft E benvenuti in un nuovissimo episodio di Minecraft Ma prima di tutto, Steph, che ci facciamo qui? Perché siamo in questo posto? Cosa dobbiamo fare oggi? Allora, io ho pensato, Fere, ok Quando pensi, tu succedono sempre cose brutte Quindi non lo so se fidarmi o qualcosa del genere Allora, io per ora ti sto... A parte che tu non puoi accettare o meno perché Sei già in mezzo a tutta questa roba C'hai il camice, sei una scienziata Ormai devi fare questo lavoro Ma io non me lo sono messo questo camice, capisci? Parleremo dopo per convincerti a fare questo lavoro Ok Ok, quindi per adesso senti un attimo Stavo dicendo che io ho pensato Minecraft ormai ha un bel po' di anni Quindi secondo me ha bisogno di due scienziati come noi Super mega professionali ed esperti Che cercano di creare delle nuove magie Delle nuove particolarità Per, diciamo, far ringiovanire il mondo di Minecraft Perché altrimenti qua rimaniamo sempre con le stesse cose E non va bene, Fere Abbiamo bisogno di fare degli esperimenti Per scoprire qualcosa di figo Non so cosa sta passando fuori casa nostra Infatti sto ridendo da sola a due minuti Penso che sia qualcosa del circo Di quelli che passano l'anno Stavo dicendo Che quindi noi abbiamo bisogno di fare delle scoperte incredibili Come puoi notare La prima cosa che ho fatto È stato il mio primo esperimento E direi che è uscita abbastanza bene È che la grafica del gioco è diversa, Fere E l'ho notato che è tutto diverso È tutto strano Sembra disegnato Molto strano Lo so Cosa ne pensi? Dimmi un po' Eh, devo dire che mi piace Ti piace? Questo mi piace soprattutto come si vede lo zombie Fa più ridere così Secondo me fa un po' una paura Mettiamola così Di una lente a contatto Che tu hai negli occhi Ok Ti pure ho messo cose negli occhi oltre al camice Sì, che ti fa vedere il mondo diverso In realtà questo è il mondo classico Cioè, tutto quello che vedi è una roba classica Però hai questa lente negli occhi Che ti fa vedere il mondo in maniera diversa Ed è molto interessante Però ovviamente questo è soltanto l'inizio Fai il primo esperimento che ho fatto Ovviamente Adesso noi dobbiamo iniziare a fare qualcos'altro E soprattutto una cosa importante Sarà convincere gli abitanti di questo mondo Che noi siamo brave persone Quindi ogni tanto capiterà Che verranno delle persone A chiederci qualche favore E noi dovremo essere Dei fantastici creatori E scienziati Per creare qualcosa Che gli darà una mano Cosa ne so Viene un agricoltore Che vuole una mano Per il suo campo Noi creeremo uno strumento Per coltivare è comodissimo Verrà anche qualcuno Verrà anche qualcuno a salvarmi Steph Prima o poi arriverà Magari qualcuno che mi porta Non sei simpatica Ti salvo io scapperò via per sempre Quindi questo qua è il mio nuovo mondo Dove dovrei vivere insieme a me E fare la scienziata Però dato che so Che a te non piace Che vi stai già rompendo le scatole Perché ogni volta Tu sei diffidente con i miei nuovi progetti Tutte le volte va sempre a finire così Quindi Sto cercando qualcuno su internet Steph Che venga a salvarmi Torna qui Fere torna qui Questo ti può interessare Ho pensato Che i miei primi Diciamo esperimenti Non saranno per gli abitanti Di questo mondo Ma saranno per te Quindi Andrò a creare Ok Un mondo di dolci Delle invenzioni Che ti faranno felice E noi sappiamo Come far felice Fere Abbiamo i dolci Quindi un esperimento Che avrà a che fare con i dolci Fatti la lista Un esperimento Che avrà a che fare con le armi Perché purtroppo sappiamo tutti Quello è meglio Un esperimento Che avrà a che fare con gli animali Ok E l'esperimento di oggi Che avrà a che fare con Forse il gioco A cui hai giocato di più Negli anni Ovvero il nascondino Oh Non ci giochiamo da una vita Poi Steph Quindi Un po' mi manca Sì Segnati questa lista Perché in quattro esperimenti Riuscirò a convincerti A fare lo scienziato Ok Diventere il tuo lavoro preferito E questo qua diventerà Soprattutto il tuo mondo preferito Perché Ti garantisco che farò Delle creazioni davvero straordinarie Soprattutto per i dolci Per i dolci Ti dico E allora per ora Ti ascolto Ok Per ora È già quasi tutto pronto Non ci le armi Tipo qui Dove è il nascondino Che dobbiamo fare Noi creiamo le cose Ah ok Lo creiamo Dobbiamo creare Diciamo Un qualcosa Che ci permette Di fare un nascondino Su minecraft Super divertente Ok Cosa può essere Steph Allora io ho pensato Che è una cosa Qua con la stampante Steph tu mi hai detto Un'arena apposita Perché ovviamente Pure è pure Pure è pure Capito Non solo mi trasformi in terra Ma mi devo pure nascondere in mezzo La terra Le cose si fanno bene Non c'è niente di bello Vieni qua Vieni qua Adesso dobbiamo entrare Ok Qui dentro Ok E ti dico che sarà un nascondino Di quelli super epici Inizio io a nascondermi Fino a quanto conto Steph Eh boh Conta fino a dieci Dieci ti bastano Vai Uno Due Tre Quattro Cinque Sono un po' veloce Vero Sei Sette Otto Nove Perché secondo me Ancora non ce l'hai fatta Quindi rallento E dieci Vado Vado in giro Speriamo bene Io non sono molto felice Allora A parte che sembra un labirinto Sto posto Mi sto perdendo Beh Fede Dovevamo avere comunque dei pretesti Dove nasconderci Beh certo Ho messo anche un po' di cose Che creano difficoltà Salve Oh ci credi che cosa ti ha tradito? L'ombra dei tuoi piedi Perché non ti avevo notato Ho notato però l'ombra Ho detto c'è sicuramente qualcosa Che fa ombra Mi giro un po' più Da quella parte c'eri tu È difficile Lo so Lo so Mica è semplice Ci provo Devi credere nella tua armatura Pronta? Fatto Ok Uno Ah ma stai già nascosta? Dieci Vieni a trovarmi Ok Dai forza Allora Allora A parte un cavallo che stava Facendo il pazzo fuori Non vedo nient'altro Ok Molto bene Fere Che c'è? Ti stai nascosta bene? No non proprio Sono molto visibile Io non ti sto vedendo Ah ecco ti Ma ti sei mossa Ah Non ti fossi mossa Non ti avrei notata Stiamo facendo schifo Si vede che siamo arrugginiti Steph Dobbiamo concentrarci No non lo so Si vede che non lo facciamo da molto Da qualche mese Non sappiamo più giocare a nascondino Steph Ora mi concentro Dai mi metto qua sopra Sto ben concentrato Vai Forza vai Fatto Ok Vado Sì sì Mi raccomando non ti muovere Non fare ombre Tranquilla Non fare ombre Questa volta non mi trovi Questa volta non mi trovi Sono molto felice Del mio nascondiglio Sappilo Ok Ogni tanto sbircio il suo schermo Per capire se mi sto trovando Sono caduta nel buco Scusa un attimino Ho dovuto rompere un po' di cose Comunque la nostra Allora Ormai non siamo più persone professioniste Che giocano a nascondino Siamo diventati degli scienziati Quindi Sono più fiero Non tanto della partita Che stiamo facendo a nascondino Ma del fatto Che siamo riusciti a creare un'armatura Che rende il nascondino più divertente Oh non ti trovo Steph Lo so Fede Non ti trovo stavolta Perché questa volta l'ho sfruttato bene Come ti sei ficcato Eh chissà Ma non sono passata da te Mi sa proprio di no Perché altrimenti penso Che ti avrei visto Chissà Fede Non lo so Ti rendi? Non ti trovo Steph Oh yes È tornato il re del nascondino Dove sei? Aspetta ho visto Cioè dove eri? Qua dentro Ciao Ok Aspetta che riparo tutto Che mi dispiace lasciare tutto così rotto Mettiamo così così Vedi C'era praticamente queste colonne E qui c'era un buchettino Dove nascondersi Ma l'hai creato tu o c'era già? No c'era Ah ok Pensavo l'avessi creato tu nel mentre No se l'avessi creato io Vedi non ci sarebbe più la grasso Capito? Quindi era già fatto così L'ho trovato e l'ho sfruttato Ok Comunque direi che le nostre armature funzionano Sono super soddisfatto Possiamo tornare al laboratorio Che dici? Volevo fare un altro round Ancora? E dai un altro L'ultimo Ma Fere la sai che ti Vai Ormai ci ho preso gusto Steph Aspetta devo cercare un bel nascondiglio Prevendicarmi In quanto 15 secondi Alla fine non è che sia Chissà quale perdita La conosciamo Fere A nascondersi non è mai stata troppo brava Hai fatto? No Sto pensando Stai zitto Mi stai deconcentrando Scusami Scusami Non volevo Non lo vorrei mai fare Comunque Fere Secondo te riusciamo a venderla Questa armatura Magari a qualche villager Trovato Questo è un bellissimo nascondiglio Per farci qualche soldo Secondo te? Non lo so Perché non Cioè allora È bella Eh ma serve solo per nascondiglio No no O per essere un ladro C'è un lupo Un orso Tu prendi e fai finta di essere un blocco di terra Io ho fatto Ok vado Vai Allora Ok Non mi troverai mai Fere Questa è la mia vendetta Ho sbagliato Che è successo? Avevo dimenticato l'F1 No dai ti prego Era bellissimo Guarda dov'ero Steph Guarda dov'ero Non mi avresti mai visto Allora questo round l'ho vinto io lo stesso Basta ho vinto io Ho vinto tutto Ciao Steph Mi sono dimenticato Mi sono impegnata un posto Lo so Ma sei una persona terribile Non stai fare nulla Non ne vado Basta Non mi vedrai mai più Addio Non sai più dove sono Aspetta che esco Cienziata Ferinichi È stato davvero un gran successo Per celebrare ho pensato Mettiamo un armor stand Con l'armatura di terra Che abbiamo creato da qualche parte Per ricordarcela per sempre Sì 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 Dove mettiamo? Nelle prossime avventure Ricorderemo sempre Di aver creato una bellissima armatura Non lo so Che bei ricordi Allora da questo lato Abbiamo un sacco di spazio È un po' vuotino ancora Il nostro laboratorio Abbiamo solo la nostra postazione lì Ma il resto è tutto vuoto Te l'ho detto Il nostro budget è ridotto Ovviamente Finché non vendiamo qualcosa a qualcuno Stiamo messi male Io pensavo Ma mettila qua Guarda in questo blocco Questo qua No questo qua Ah dici un po' in mezzo? Eh sì dai Tanto non c'è niente Poi io Quando arrederei male Che vada la sposti Steph La metti da un'altra parte Guarda Carina Vero? Sì Ok così ogni volta Che siamo nel laboratorio A lavorare Ci ricorderemo E poi magari più un po' Riusciamo a venderla a qualcuno Soprattutto Eh magari sì E ci facciamo un po' di soldi Arriba uno Che vuole fare nascondire Vendiamo Ci prendiamo qualche soldo Arrediamo un po' il laboratorio Che qua siamo messi un po' malino Abbiamo bisogno di macchinari nuovi Però C'è da dire che questa lampada di lava È davvero bella Sì Sì molto bella Questa è bella Oltretutto abbiamo una cucina Come posto Dove fare le nostre pozioni Le nostre cose Non è una cucina Dovrebbe essere un macchinario Un po' più Non è una cucina Un po' più adatto È una roba da scienziati Super professional Sì certo Ok non l'ho comprata Al discount scontata Del 60% Ok Per ragazzi Iniziate se tutto Lasciateci un bel like Questa è la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao Ciao